Il primo giorno Il primo giorno Il primo giorno Non so se non ci sono Ma ci sono i miei Ma non è la mia moglie Non è la mia moglie 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 è stata in Milano E' stata un grande E' stata una bella Vite Puglia E' stata un uomo Ma non è mai D'accordo Il primo giorno E' stata un uomo Puglia Puglia La mia moglie La mia moglie Puglia Puglia La mia moglie La mia moglie Puglia S판la E' stata un' pe〇 La mia moglie Si dorme La mia moglie Si dorme La mia moglie L'amme pavichi, Sumerium, perché lui ho chiedi la vota. L'amme pavichi, Sumerium, perché lui ho chiedi la vota. L'amme pavichi, Sumerium, perché lui ho chiedi la vota. L'amme pavichi, 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 lui ho chiedi la vota. cantè oi e aperte sei felopusebio mamma se per te sei giù entra ca direnze te pa mi per me perchè zo se d'ha tre baghe più importante a fai d'accord ora guarda ma puline mamma vei dote che ne puoi pa mi corretta e la conchia di puline puline iatrenti in can di te arna ea timite in loiazzo e una bicicletta totta uerche puline iatimignote desu etan ea tim omo maian pa maia la d'accord lo singhommo vu passa bene dei gavese di mitte puline la me fa le pulizie senza niente iambetà se presa up e pui e puline lamme suria la zen che incontra i pezzemini puline lamme ivri la fa e tra ea piccola se in bella val d'ortana puline lamme pa il te imite senza pui ea le a travagli puline lamme pa menzia volusse in omo senza niente in sale due na paola puline lamme pavichi su merio perchè le oi chiedi la vita oh mamma oh mamma che piaci sentite ciao puline ma mamma chiese me puoi te le fuite più tardi oi ma ma anche te capite avechia chiesa ma zede tracar me fa me fa prezimo mangi a volus a va ben puline ma ma cutta te sentite oi avechia zei zei frante tra ca mangà pietar se sorta fai la pesa passo poi trovete d'accord ma puline se ta manca te le fu e me e oi mamma mersi mersi bien a pietar ma luis ma che te fai caciare delle mitte ma sor fu a na che io ti imbezo lei fu a fu a fa e anche io paremlai di fu a ma ma mangà mangà te trovi per car camis per fai ca che ca che paola mamma zo ne puoi pamide te che ho mettendo un re ma com'è un mettendo un re luis e ta tot e poi essendo la tua famiglia mamma zei già detto l'un wikinko che se fisse per me zo se io già viade che ha fai anche a buon uomo che pavonga fai il re giusto a insulte che ha fai la porta e l'inciucche se lo nasce la cantiglia di papà e i e poi to d'oro te in papà e zei già detto lo che se fisse per me lo chite io l'anche e che se debroiasse il la jajamè sta in papà per me ma luis ma te te ta studià ti geometri fai te navega trova il travaglio di un altro cotena e mamma ma te vei pa come va le baghe e utor il travaglio zorde way ma è lo travaglio due a chise che si vuole un lor jeppe fa esse due merci che gli è convinto che di travaglio per me n'è pa nì di spianza e nì di sonzo te sai che è la più bella baga da fai alle abbe alla cantina totta la net ma zo se papa e poi io papa e se di fai tutta la mia vella pare se stuf di te e cozo sei stufia luis sei stufia di avere te pa eva te ben preglie se cattro sotto che nè e va via a nà tu a un a milan ma com'è le suizze se te l'ha me mi va tu te fai una veglia tu trovi un travaglio tu coniede zain nuva batte nè mamma se io tanto con te ma se ma puoi pagare me e saven che se io ti fai un paccozzone in tante alle coppie ma la me come fai un gioco a me e saven che te ti è a un uomo che can torna il ciucco dalla cantina e ecco buona levete le mani come fai un gioco a me e saven che tutti i preso ai head durante quattro mare avevo quattro sotto che te due che te basto nianca per fare le spesa ma ammazzone puoi opami mi raccomando non andare in televisione perché se no sei commerciale eh cinque secondi e andiamo in onda dunca la mia destra è la bella domica che se vuoi imprendere in questa presa in tagliata mi farei doile la legione più succo a questa età e fu della benciò ve lo con sei. Dopo la fine della Grande Guerra, in Italia si instaura il fascismo. Ma perché? A differenza della Germania, uscita sconfitta dalla guerra, l'Italia era teoricamente uscita vincente. Ma come ho capito l'altro annetto a me? In teoria, se ho l'isciolo non ho a Ryan, ma poi, io abita su me te, ma io, che poi, devo usare te, ora che si manda ma io, avevo me, che mi manda Kylie. Oh, ma anche, no, poi poi vi chiede l'imbroglio, eh? Oh, avete su fiamme? Perché? E anche io, è un broimo e pomme e fassi ghiè, piantela là. Dunque, ecco, hai dei perdimi. Però intervennero tutta una serie di fattori negativi. Innanzitutto, fu necessaria una riconversione delle industrie belliche, ma dato che fu molto lunga, molti operai italiani rimasero, rimasero? Ah, oi, scontenti e disoccupati. Ma direi, ma il coccolo l'euro è bene per chi? No, no. Sì, quello che è la storia moderna, mi pieprò, peppa. Perché, oh, io sono la tannetta a Ryan, si vuole presto a chi te lo nome ho. E io trovo a me, tutta caghetta, e a fare avere il telefono, io do io, ma ti dico tu e città sulla foto. Poi, le due amignavano su Facebook e su Renzi e bruciamelo. Ma che pive. Oh, ma anche tu è un broimo. Oh, a Ryan, a Ryan che vuoi venire un follower, ma io mi fai fare una foto, mi fai fare una foto, poi mi vai. Allora, allora. No, vai. Ah, oh, mi raccomando, non andare in televisione perché sennò sei commerciale. Cinque secondi e andiamo in onda. Dai il microfono. Pallo anche tu e come no, si guadagna di più. Ecco, ecco. Ecco, 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 ecco. Ecco, 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 ecco. Ecco, 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 ecco. Perché Zoe, vorrei dire che tu, tu ti stвержí per entrare alla Bocconi, perché tu pensi che lascia avere per l'ingresso test la foto più bella su Facebook? No, manca la foto la vecchio diSNPAM, ma la famiglia di Juvenio... Sì, ti fa portare il rispetto, Kylie. Oh, è vero che ti fa portare il rispetto. Oh, ti fa portare il rispetto perché, Zo, sei con la tua mamma? Oh, l'unica cosa che ti interessa è che Zo ha la sola bocconi. Poi tu ti fai bella figura che volete una misa, e di me ti interessa il regno, perché ti fanno vergogna. Ah, è di Papa E, perché adesso non c'è Zo e la tua mamma. Oh, ma anche se ti torna. Oh, e sa, c'è l'app che ti dica che io l'ho di fare lo bidet uzzion. Uppos, d'escute me me, tutte le scese sono bue. Di adetà hanno usato il suo vero, siete sempre attaccato il telefono, sortite per me dimitte. Ma poi, quando voi mettete, con i vostri grossi, di belle pelle, no? E poi tu pensi di venire mostrare a me la legion, a vecchia. Zo me gavo perché t'ha su fiamme, e vuoi da qualcuno che mi ascoltasse per da boh. Kylie, per piedi. Eh, anche fa due, io abbia ragione con lei. Ma, tante sei come fiamme per due. Casi, casi, c'è zitto, il nu perde botte, ma grabe le ate. Ma no, a vecchia. A vecchia è, la fai che lo senti il telefono, io per me farò lo dire modello. Casi, casi, c'è zitto, lo dire modello dell'iPhone. Paete, vai perché torni tutta bella, sorrienta e contenta dei prezzi, mi torna. Ma oi? Gli vuoi una minuta? Eh, avuto sto subito a Vicky su Amazon. Ma oi? Perché fa? Ah, io fiamme. No, per te. Un po' di niente che fa, per te. Ma adesso, ma come fai? Mmm. Alla mamma, zebbiame. Ciao mamma. Chisa. Gli ha passato il tempo, e assiste a mille mette. Alla fine, non c'è niente di andare a fare la spesa, perché, alla fine, non c'è niente, non c'è niente. Sei che bella posta. Eh, mamma. accutta, lo sai, dovevo passare, ma, alla fine, zebbi di tracca, coi, che avevo il Luiz. e poi, se già so che buttare il mio pezzo e mento, e la bicicletta è tutta la vera che zei, zeo, com'angare a vinnincidenza, vecchia. puline, fermete, perché, zo, te connesso, eh, te pu, con te, dei mehonze, a chi te pu, ma a me na, eh, sei, come tresue, tu, tu ti pare, che se fermo, per me tra cà, ma, ma accutta, piutò, se ha pa, decò, eh, di oggi, decò, che c'è c'è chiun, che ha dato lo conseil, dei tetani mite? ma, ma no, mamma, ma, ma, maia, che ti ha detto? ah, vecchia, di pa de piova, eh, se pensà che, che passavo zotto, tante, sapevo come ieri, alla fine, la conchia, eh, sei, e davan, te mi evo pe piozi, ma già che te evo, ma, ma, oh, mamma, ma ven, ciao, ciao, ma che verrete, da ufra, manca di verrete, ma, chiesa, eh, ma dunca, te mi pregiavi, du cellulare, tazetate nengengono co te, eh, ho giocca che zei zetame nengono co zo, a vecchia, ma ta fei proprio ben, suor tu aia, che lo papa iepamieti soletta, a vecchia, ta fei ben, ah, no, na fietta di me, eh, te te trompe proppe, te sa, boh, ahia, che, che lo papa iepamie, e che tu sei da soletta, la gran par di me in tracca, che son pa me, te sabrogimi te, puline, eh, lo sai, mamma, lo sai che te due de tracca, non so, io vorrei avere te in poca piogheia, ma, ti la soletta, che mi è cute, che mi due dei conselli, poi, paprizia ogni indattro, e ti giusto te. Eh, Napolini, eh, piante la laia, perché, boh, zio, zio sei la te mamma, e mi comporto da mamma, con l'omento di verte, ha cute che gli manca, e c'è il cofè, che pensate, portate in poca di salata, perché tanto sapevo che te sei, e palla, la fa e le peggie. Ma che brava chiedita. Te do a pulitela, vai. Salata, il giornale, e le cotte. Ma, scusa, a propos, della nostra cacerada o telefono, ma, anche capite te, avolo te e Luis? Anche capite, capite che le, vugavesse, che giusto che, vupacchiteme soletta, aveva, che sei dei fosti, che, te dio pa. Ma, ma è dunque, dunque anche te pensi di fare? Eh, anche penso di fare, anche, anche penso di fare, penso di contenevi anche a zio, per modè, per modè, ma le, le vuoi pa modè, per niente che ti è messo letta, ma, ma che sei moda, sono le che io e zio, e che put. Puline, veo delle cose, già dottelo, coterte pur gavete, perché, d'abord, sono, sono famiglie, mentre, quando gli uomini, obbligavano le famiglie, a fare tutto, che vogliono loro. Te, te pu gavete, can, te vuote. Ma, 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 ma zio, vuoi pagare me? Zio, alla fine di conchio, eh, io tocca abbastanza bene, e, un mettendo di meno fastidio che di meno pastis, ben, mi rievo le manze, e poi fanno sciogliere la faccenda. Chiesa, Polina, ma, ma tu ti pastuffi, ma, perché tu chiese, il suo portiere t'aveva di miseria? Ma, ma Polina, ma, ma chi te lo fai fare? Eh, ma chi me lo fai fare? Ma Luis, no? Lo fanno per sé, perché io ne avevo poca miei caso, e le dadi! Beh, ma, ma ascoltate, ma, zio, ma la verità, e i da bene se c'è cosa ci puoi fare, eh? Ma, ma vada a voce, no? Ma vada a voce, ma vada a voce. ma vada a voce. Come fò nel lezzo a voce? Dai, dica cosa d'altro che è un poca più intelligente, ma ma. Sei fo'. Ah, ma, Luca, se ti può partire prozzo a delle persone, ti cercherai un po' di attraverso la tecnologia, ti chiedi a ascoltare un po' di queste telefoni, che non è internet, no? Ma, 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 un telefono, che è che fanno che è internet? Ma se sei pa' niente a voi in piedi, è che ma anche te dite aia, è poi internet o pa' internet? Tuoi due è la même faccia, un telefono ben tuoi due, eh? Eh, ma io ho un po' di attraverso, perché io ho un po' di attraverso, io ho un po' di attraverso e io ho un po' di attraverso. Eh, eh, se ti prendi un po' di attraverso un po' di attraverso a te, magari te potevi sentire un po' più sovraio di lui. E in fine paese, magari sei un po' più tranquillo e potevi partire un po' mentre a casa, no? Ma a casa a te anche... Pouline, chiesa, ma chi te vuoi prendere in giro? Ah, è che lui te connessa alla perfezione, perché lui sa come sono le baghe, lui sa che tu te la metti e tu vedi un lavoro, che puoi pagare 4 soldi in più, ma l'altro te lo sapea. E tu devi neanche provare sopra per fare le spese per vecchi. E in più, fisse per sé, lo tenhomo, tu e tu a te sei e già... Oh, beh, ha esagera poi. Ha detto che lui, tu anche fai per me, lo fai perché me vu ben, perché me l'amme, e poi con la questione che vuoi che io ho lavorato, lui è da buon, pensa che lui fa male, dovessi un po' di lavorare, perché poi i miti avevano la famiglia, mandano avanti la misura, fanno il lavoro, e beh, se proprio mi fa due tot, io puoi ben cacca di fatta, ma il lavoro porta le sottimitte, dove puoi fare pro zia se vada bene in cò, in cantina o nientan? In cò? Se senti in viso a Pouline, in cò, alla cantina? Ma perché li scien perdono, va per piacere. Ma in più, tu sai la bacca che mi fai venire, di più lo nervoso? E' che tu, qui t'ai, te lo l'amme, malgrè tu anche te fai. Ma se put, a vecchia, che davano a prese, apri tutto tardi, Pouline. Ma ma, ha esagera poi, perché gli ha capitato qualche cosa, e tu le cogli a mandare chiesa, e gli ha fra repentisse. Ah, gli ha fra repentisse, ah, beh, meno male. aveva chiesto, beh, te la comete vuote, ricotta ferme più un minuto nervoso, e poi mi come dite, lui. Ti capi? Perché, Zio, sai come sono figli, l'uomo, eh? Lui, c'è un zonpa. Beh, ma, avrò, eh, Pouline, non è che vuoi presi malamendute in pappa, eh? Ma, se io vi so qui, Zio, altro che telefono. Beh, ma, ma, dunca, dunca, fai lo per me e per Luizna, che te la man paè bian. Che tante le baghe per te, come ne vi, te le fai jamè, eh? Ma, il telefono, zetetelo, perché te serve, paè senti più tranquille. Oh, oh, ma. Ti capi Pouline. Oh, va bene, va bene, va bene. Oh, va bene, va bene. Oh, va bene, va bene, va bene. Matt Roxanne. You don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne. You don't have to wear that dress tonight. Roxanne. You don't have to sell your body to the night. His eyes upon your face. His hand upon your hand. His lips caress your skin. It's more than I can't stand. It's more than I can't stand. It's more than I can't stand. You're willing to leave me But just don't deceive me Believe me when I say I love you Eh, chi è io dello, pulinne, tipo cazzo lo tommo e tu butto, ma te vien vii ecco tu. Se il pettozzorna bella femala, eh, e le omo me l'ammo, ma oi, ma, ma, ma se penso che i vignetti, quando i mari amano, oi che sivo bella, ma bella pedabon, sivo zovea, senza tracà, senza puie. Come tutte le fiette che cerciavano forte, re, sivo e bonde, fai me despe, sivo in Lyon, e aia, aia, aia si è difenta, ma, se to' anche wei, se imbemite, se è una bella feoglie, se neanche manca, se trovi e poi fai to' anche wei. E' pieno la zaino in tuo mondo che mi veie, e che pensano alla loro veia grisa, e pezzi, e... E poi è puline, o già, aveva chiamato me che... ma chi me vei a me? Lo m'ammo, mi aveva chiamato con la semplice, e le zatre. Nena, a me, le zatre mi interessa un frampa, perché la soletta che se vei, perché se avevi chiamato io, sei proprio giù. E alla fine, dico bella preta la mia, innesso le mie sale, e la veia in tese quattro morsi, che poi, alla fine, io commersi a tuise che sei raccontato, e a to' anche a capitame, se sei pa' io. Ma, fa' ecco me, fa' ecco me, è possibile che, che in tò, in tò, io arco e zai, zò, fisso già me' contenta. È possibile che, sei dei tot, ma io ero re che mi fiasse contenta, re che mi fiasse gheia, o che mi doasse co' azzò. E quando sei davanti a me, io, e me' vecchio, la mia veia mi sembia più grisa che tante d'altre. Lo veiate come gliela conchia? Io chiede bene, e chi, io, con tre, gli ha toccato il papà. Ma anche te zanzi la veia, gli è come un te la vecchia, come un te her, di vere, le baghe che ti capitano. Vata sa veta a me di puline i et in tu mondo. E te, chinta puline tit. Io volevo remerciare la regione che con ieri hanno dato la disponibilità al pullman per la nostra azienda Arna. E merci alle regione Arna che vi dà in pissare l'ottorna. Più o meno, via. Come è che mancava? No, scherzo, lo sei, è più o meno. Ah, remerciano le tecnici di luce e tutti che trovano un derretto, che si vengono un po', ma merci qua loro se lo spettacolo vengono in viso. E... Ah, allora, diciamo la polla in ultramis da IAS. E... E voilà. Disastro. Buona sera a tutti. Grazie. Grazie.